vai ragazzi ciurma partiamo con un altro gameplay di one piece pirate warriors 1 siamo al gameplay numero 29 ragazzi sinceramente non so se manca molto se manca poco andiamo un altro episodio si va ragazzi ci sentiremo dopo i video qui ciao banda a a a a a Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Iniziamo e andiamo avanti Poi si vedrà, si vedrà Io tanto mi diverto con questo gioco, lo sapete ormai, no? Ok dai, spostatevi tutti Ora ragazzi facciamo una cosa, cercheremo di conquistare tutte le zone Lo facciamo per bene questo gameplay, dai Allora questo qui cosa vuole? Ah si ok, lui, ah il capo lui è il capo, ok Riesco a colpirlo, uh la la, territorio conquistato, bene Vediamo un po' se qui c'è Calmi, calmi Ok, no, questo è per l'energia ragazzi Si un attimo, un attimo Che sinceramente adesso a me l'energia non serve quindi L'altra cassa dovrebbe essere per essi Come pensavo infatti Allora Uh la la Cosa succede? Fantastico, fantastico Ah ok Devo usare lei adesso, vabbè Allora Un attimo, allora vediamo se riesco a fare la combo Vabbè anche se no Allora, stai tranquillo E porta rispetto a una donna, eh Ok Tanto verrà distrutto ragazzi, ecco l'ho detto io Moneta ottenuta, la grande Ho ottenuto la moneta Dove sono? Eh, son qui Devo conquistare questo territorio Eh beh Ci vuole tempo, eh Ci vuole il suo tempo Questo personaggio qui mi piace Mi garba molto però Io vorrei continuare a giocare con il mio rubber Ma vabbè Accontentiamoci ragazzi Accontentiamoci Vamos Andiamo Andiamo Vai raccolgo tutto Anche se Ma quanti ne sono qui? Vabbè ne siete troppi Vai mossa speciale Mossa speciale Su Ne sono tanti ragazzi Allora Dove devo andare adesso? Vado Bu Ditevi voi Andiamo giù Andiamo qui giù Dai No Dai scendiamo Che andiamo a conquistare un altro territorio Un altro territorio molto brado Ai 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 Due pacifisti Qui ci sono Neanche a dire uno No? Ne sono due loro E beh Ehi la Ehi la Calmi tutti e due Anche se questo territorio è conquistato Potrei anche tranquillamente Ma si dai Andiamo avanti Andiamo avanti Qui Ai 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 Cosa ti racconto qui? Qualche barzelletta ragazzi Vediamo un po' Vediamo Devi star tranquillo Tranquilla Fai tu Ok Combattiamo bene Così la distruggiamo Dai Vai Dai però sto dando dei colpi Ben potenti Non dite che non sto giocando bene Perché non è vero Ecco Non spariamo stronzate Ok Dai che parla No Allora Dai Monsta speciale Lo mandiamo a casa Dai Moneta ottenuta Missione completata Più di questo Non avrei potuto fare Però ora devo conquistare il territorio Tutti i territori devono essere miei Gli voglio tutti per me Gli voglio tutti per me senza problemi Ai 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 Bipi E E Da Sì Sì C'è No Barba bianca si è incazzato ragazzi Ma adesso lo uso io Ci divertiamo Usare barba bianca è anche bello Ve lo posso garantire Sono soddisfazioni Anche se io voglio usare rubber ma vabbè Vai territorio quasi conquistato Anzi io direi conquistato Ora non so se andare Vabbè si andiamo su dai per forza Passiamo qui ragazzi Passiamo di qua perché è la strada che devo fare quindi Però prima mi fermo qui a conquistare questo territorio Devo conquistare tutto Tutto devo conquistare Sì Così Così Non fate paura a nessuno Neanche le mosche Ve lo dico Tranquilli Proprio potete stare tranquilli Che non fate paura a nessuno Figuriamoci a brado Ok dai dai Continuiamo Si continua 127 127k per brado Qui eh quindi Vai territorio conquistato ragazzi Territorio conquistato A questo punto vado di qua Si si ci vediamo più tardi Tranquilli Ecco qua Sono arrivato Si Ora conquisto qui ragazzi Poi credo che farà cambiare personaggio Credo non lo so eh Io l'ho buttata lì Poi Il gioco non so come andrà Perché giustamente io È la prima volta che lo gioco Lo ripeto quindi vai Massa di fulminati che non siete altro Vi distruggo Vi distruggo Ok calma calma Ma dove sono gli altri Che qui devo conquistare il territorio Oh eccoli qua Eccoli qua tranquilli Ma qui mi indica Ah c'è il capo C'è anche il capo Ragazzi diciamo che c'era il capo Perché ormai È andato anche lui Ecco L'ho detto io no Ma devo tornare dietro adesso E si Eccolo Eh sarà uno scontro Formidabile Ve lo posso garantire Tanto questo Fidatevi Sa solo scappare Non sa fare altro Perché sa che ci prenderà Tante di quelle legnate Che Che neanche lui si renderà conto Di come finirà la situazione Qui eh Allora no Non fare così Stai tranquillo Dai barba bianca Fai il tuo lavoro Distruggilo Sei più forte Lo sappiamo Quindi Ok Ok Guardate qui ragazzi Lo distruggo Lo distruggo Dai Scappa Scompare Fa tutto lui Ma ora Vai Missione completata Vai così Vai 謝謝 Chia Che Ti Mi Mi Poi Mi Estilo Senti Dug An Las night Mi Mi Grazie a tutti grande rubber grandissimo non 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 Sì! Ok ragazzi Adesso ci divertiamo E vai Voilà livello 30 E vai Ottimo così Ottimo così Questo gioco voglio cercare di platinarlo Ve lo dico eh Ve lo dico ragazzi Dai spostatevi tutti Che non c'è storia Siamo troppo più forti No Allora c'è il capo da battere Eccolo qui ragazzi Ecco il capo vai Credo che sia abbattuto ormai Vai territorio conquistato Grande Aha La potenza di brado ragazzi La potenza di brado Ok Allora a questo punto ragazzi Io farei un Come si dice Un salvataggio Ecco Salvo la partita Ecco qua Ero andato un po' troppo Spedito lì no Però il gameplay ragazzi Non lo interrompiamo Magari Facciamo altri due minuti Poi Ecco Poi non dite che non vi voglio bene Non dite che il vostro Diablo No Vi vuole bene Ok Eccomi qua ragazzi Sto arrivando anche A conquistare Quest'altro territorio Dai conquistiamo Facciamo conquiste Facciamo conquiste Oggi ho voglia Di conquistare E non solo I territori Ok Dai Su Che coppia Ragazzi Ace più rubber Che coppia Dai adesso Devo battere Anche il capo Tranquilli Che così C'è il capo Da battere Ah non c'è Strano Strano Veramente strano Io non vedo capi Qui anche perché Non ho padroni Forse per quello Ragazzi Ah no Eccolo qua Eccolo qua E' arrivato E' spuntato fuori Ma adesso Gli diamo Una lezione Che non dimenticherà Molto presto Diciamo Ecco Ok Allora Da che parte Vado ora E' di qua Di qua Allora ragazzi Facciamo una cosa Conquisto questo territorio E poi Si interromperà Questo gameplay Dai facciamo così Almeno facciamo Le cose Fatte molto Molto bene Dai Cerco di far Sempre le cose Nella maniera Più giusta Possibile Quindi Anche più Brada Possibile Che Io faccio Le cose Brado No Quindi Sono molto Brado E allora Ottimo Così Vai Manca poco Per la conquista Del territorio Manca Veramente Poco Dai Conquistiamo Tutto E vai Territorio Conquistato Ottenuto Una moneta Ragazzi E quindi Meglio di questo Non si può fare Non si può fare Allora 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 Cosa Allora Qui non si può andare Da dove Da dove passo Ragazzi Me lo dite Allora Lì Lì è tutto Chiuso A meno che Non posso Sfondarlo In qualche Modo Batti il capo Della marina Eh si Dove è il capo Della marina Allora È lì È lì Ragazzi Forse Ho capito Perché È l'unico È l'unica Zona Dove posso Andare Ok Ragazzi Allora Il gameplay Numero 29 Diciamo Che lo stoppiamo Qui Il vostro Diablotex Vi saluta Ci sentimo Per i prossimi Gameplay Di One Piece Ciao a tutti Alla prossima Ragazzacci Ragazzi 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 Ragazzi